Le vaccinazioni pediatriche continuano senza sosta nella città metropolitana. Sono finora circa 13.000 le somministrazioni registrate in provincia di Bari, con copertura prima dose al 16% nel territorio provinciale e al 21% nel capoluogo. Alle somministrazioni già calendarizzate si aggiungono quelle negli studi dei pediatri e da qualche ora sono disponibili anche il sito lapugliativaccina.it, sportelli CUP e farmacup per prenotare comodamente da casa giorno e ab vaccinale. Le vaccinazioni quindi vanno avanti a pieno ritmo, ma come si convincono i genitori un po' Ristia e le somministrazioni pediatriche? Sicuramente il vaccino lo stiamo vedendo in tutto il mondo, perché prima dell'Italia sono partiti altri grandi paesi come gli Stati Uniti e Innoquo, quindi non crea nessun danno al bambino, perché credo che questo possa essere qualche timore dei genitori. E poi oltre a questo c'è poi il vantaggio di avere un bambino protetto, perché è chiaro che seppur raramente ci possono essere dei casi di malattia che necessitano anche di ricovero, anche in quella fascia di età, e quindi ci si mette al sicuro da quel punto di vista. E terzo aggiungerei anche che con la vaccinazione anche il mondo scolastico sarà diverso, perché come sappiamo in caso di contagio in scuola cambia, a seconda se il bambino è vaccinato o non vaccinato, quindi anche la frequenza a scuola. Due milioni e mezzo di vaccini somministrati nella ASL di Bari in questi 12 mesi, numeri importanti. Noi abbiamo raggiunto il 93% nella provincia di Bari della popolazione vaccinata, over 12 diciamo, quando non era ancora attiva la vaccinazione dei bimbi dai 5 anni. La città di Bari, come dicevo prima, si distingue. Noi su Bari credo che stiamo per raggiungere il 95% di copertura, che credo che sia una delle coperture più alte, insomma, che si riscontrano in giro un po' in tutta Europa.